Quando pensi di dirgli che sei incinta? Ci sono cambiamenti che fanno paura. Vuoi vendere l'alpeggio? Altri che sono difficili da accettare. La conversazione è chiusa. Ma ci sono anche cambiamenti. Diventerai nonno. Che toccano il cuore. Alla salute. E risolvono ogni cosa. La casa tra le montagne. Ancora a casa. Lunedì in prima serata. Sulla 5.